Incredibile indiscrezione di mercato relativa alla Juventus, confermata dalle parole dello stesso giocatore. Guardate tutto il video per scoprire di chi si tratta. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, per non perdervi altri contenuti come questo. La notizia è un vero fulmine a ciel sereno, il ritorno di un grande campione alla Juventus potrebbe essere più vicino di quanto si pensasse. Le frizioni con la sua squadra attuale e l'interesse anche del Manchester United hanno acceso i riflettori su un possibile addio del calciatore. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Manchester United sarebbe pronto a fare sul serio, ma attenzione! Le parole del giocatore, a seguito di una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, offrono degli indizi molto importanti, secondo i quali potrebbe essere riaperta la strada per un clamoroso ritorno alla Juve. Nella squadra bianconera, ha lasciato un segno indelebile, così come nel cuore dei tifosi. Stiamo parlando di Mattias Deleit, ormai ai ferri corti con il Bayern Monaco, e il suo natore Tuchel. Come sempre vogliamo sapere il tuo parere. Ti piacerebbe vedere Deleit nuovamente con la maglia della Juve, al fianco di Bremere Danilo? Scrivilo nei commenti sotto al video. Le statistiche di Deleit con il Bayern parlano di un giocatore che ha lasciato il segno, nonostante non abbia avuto molti minuti in campo. La sua valutazione attuale di mercato lo rende un obiettivo ambito per molte squadre, compresa la Juventus, che potrebbe beneficiare della sua esperienza e del suo talento. Le dichiarazioni recenti di Deleit sulla Juventus sono state altrettanto sorprendenti e significative. Il difensore olandese ha rivelato di seguire ancora con affetto la Serie A e di tifare per la vecchia signora. I suoi legami con alcuni giocatori della Juventus e il suo desiderio di vederla trionfare in campionato sono segnali che non possono essere ignorati. In questo contesto, il ritorno di Deleit alla Juventus sembra sempre più plausibile. Ora, spetta alla dirigenza bianconera valutare attentamente questa opportunità e pianificare un eventuale acquisto che potrebbe rivitalizzare la difesa e alimentare le speranze di successo della squadra. Ciao e alla prossima notizia!